l'album da colorare i treni leggendari seconda parte ciao guardate questo è il famoso treno gun arriva in australia passando per il deserto si riconosce dall'immagine del cammello guardate che bello come è possibile la locomotiva non è colorata e anche i vagoni non sono colorati non va bene coloriamoli subito! grigio! grigio scuro! azzurro! bianco! grigio! grigio scuro! arancione! bianco! grigio! grigio scuro! grigio scuro! grigio scuro! grigio scuro! grigio grigio spuro rosa bianco che treno fantastico siamo stati bravissimi tutti i passeggeri hanno preso posto possiamo partire a a a a Eccolo Ecco il cammello Guardate Questo è il treno più forte del mondo Coloriamolo insieme E vi dirò quali sono le sue particolarità Blu Grigio Arancione Giallo Grigio spuro Azzurro Verde Verde Furo Ecco arriva il macchinista Il macchinista è la persona più importante Senza di lui il treno non può partire Questo treno va ad elettricità Quindi prima di partire dobbiamo attaccarci ai cavi elettrici in alto Ecco una grande scavatrice che riempi di carico i vagoni Si avvicina al vagone vuoto e lo riempie subito Il treno lentamente va per le montagne Come fa il treno a portare per le montagne questo grande peso? Le ruote dovrebbero iniziare a scivolare Invece continuano ad andare Guardate In mezzo tra le ruote Questo treno ha una ruota speciale dentellata Che va per un vagone speciale A cui si attacca Che meraviglia Ecco perché questo treno può andare per la montagna con un peso così grande Trascinare così tanti vagoni è molto pesante Anche andare per la discesa è molto molto difficile Bisogna trattenere i vagoni affinché non si sgancino e non escano dai binari Attenti al treno Un altro treno Un altro treno Un altro treno Un altro treno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grigio! Grigio scuro! Tren! Giallo! Rosso! Bianco! In basso, questo treno ha una calamita elettrica speciale che lo tiene sospeso. Così il treno non va per i binari, ma vola su di loro! Che meraviglia! Questi treni sono veloci e silenziosi. Così o zì! Sì! 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 Oh! Cos'è stato? Ah! Certo! È il nostro terzo treno! È velocissimo! E non va per i binari, ma vola su di loro! abbiamo ancora tante storie da colorare scegli cosa guardare e clicca gli aerei i carri attrezzi per automobile il negozio di giocattoli le gare di automobili non dimenticarti di iscriverti al nostro canale mille colori tv per non perdere le nostre storie meravigliose per non perdere le nostre storie